Quando incrocio e quando c'è un sindaco che ha come principio quello di voler ripristinare un certo decoro, dico incontra il mio favore. Certo però che forse, e questo è il dibattito che vogliamo fare oggi, forse in alcuni casi si rischia anche di esagerare. Almeno questa è l'accusa che viene fatta al sindaco di Padova, Massimo Bitonci della Lega. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il nuovo regolamento di Polizia Urbana che andrà in discussione in Consiglio Comunale, leggo dei divieti, vietato affiggere papiri di lauree e tronchi agli alberi, vietato sdraiarsi per terra, vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore, vietato bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati. Sindaco, lei forse è un po' esagerato o no? Guardi, perché come noto io ho già fatto il sindaco per molti anni anche su un'altra città e avevo applicato dei regolamenti di Polizia Municipale molto simili a questo, da cui ho tratto anche questo. Molte di queste cose inserite all'interno di questo regolamento erano già presenti nel precedente regolamento di Polizia Municipale. È logico che fa più notizia quando tu metti un divieto alle deiezioni animali con una multa di 50 euro che magari, leggendo bene il regolamento, tutta quella parte relativa all'accatonaggio molesto oppure al divieto di somministrare alcolici ai minori di 18 anni, che secondo me è una delle cose più importanti all'interno di questo regolamento, che introduce tutta una serie di norme che va contro il degrado della città. Dopo la questione dei papiri di Laura era già esattamente presente nel regolamento precedente, è noto che Padova è una città universitaria, ci sono quasi 65-70 mila studenti, quindi chi ci ascolta capisce quanto può essere importante. Vuole evitare un po' di divertimento. No, ci sono delle zone che sono prospicenti all'università, che sono appositamente destinate per l'affissione dei papiri di laurea e per, diciamo, quelle feste che si fanno quando uno si laurea, è ingiusto che vengono attaccati i papiri in tutta la città. Si può anche lanciare uova, farina. Bisogna anche leggerlo in questo senso il regolamento. Ma è chiaro, l'hanno accusata di volere un po', come dire, di essere un censore della goliardia, di essere un censore del... insomma, di avere un po' esagerato. Ma guardi, come è noto, noi poi ci conosciamo, insomma, io non banalizzo mai i problemi e penso di essere stato forse il primo sindaco che ha introdotto un'ordinanza sulla sicurezza pubblica nel 2007, che ha fatto scalpore quella sul limite di reddito per la residenza, sul controllo, sul controllo del sovrappolamento degli alloggi, che vi è costata anche un avviso di garanzia per questo, no? La cittadina, sì, come? È ben noto, insomma, che ha portato poi anche a quel decreto molto importante, che è stato il decreto Maroni, che ha portato i sindaci ad emettere delle ordinanze nel campo del degrado della sicurezza pubblica. Molto positivo, perché molti sindaci in Italia applicano poi queste norme sul degrado. Purtroppo il tema delle ordinanze si è un po' spento, perché la Cassazione ha cassato una parte importante di questo decreto, quindi non è più possibile fare ordinanze di questo tipo, ma solamente contingibili e urgenti. Però mi faccio a dire, è chiaro. E' passata sui regolamenti, nel senso che allora a questo punto i sindaci, come il sottoscritto e come anche altri di centro-sinistra, ma modificano i regolamenti di Polizia Municipale per poter introdurre queste cose. Gli strumenti che contrastano il degrado. Però mi spieghi, sindaco Bitonci, che degrado c'è nel, non so, per esempio, è vietato sdraiarsi per terra, sedersi o sdraiarsi per terra. C'è la con chi chiede le lemosine, infatti è anche vietato chiedere le lemosine. Non le sembra una, voglio dire, qua si va proprio a intaccare anche la... Ci sono delle persone anche, alcune sono sfruttate il racket e questo, senza dubbio, va stroncato il racket. Ci sono persone che chiedono le lemosine perché ne hanno bisogno. Guardi, questa è una delle polemiche maggiori di queste ultime due settimane, perché da quando ho introdotto questo divieto, ovviamente, gli attacchi sono stati, purtroppo, anche dal mondo cattolico. Il divieto non è il divieto di fare la carità cristiana, ci mancherebbe, ma è il divieto di tutte quelle situazioni che ci sono nelle città, lei vive a Milano, sicuramente molto anche a Milano, di tutte queste persone che vivono attorno al racket, perché questo è il vero e proprio racket delle lemosine. Ma per quando c'è la polizia? Si buttano per terra, si buttano per terra, si mostrano delle parti del corpo, spintonano le gente col bicchierino, cioè lei sa che questo è un fenomeno che c'è in tutte le città. A Padova poi era diventato veramente insopportabile e durante la campagna elettorale ho colto da tutta la gente questa voglia di un'ascolta anche nei riguardi dei Vupon Prade, una situazione proprio di degrado molto evidente che c'era a Padova e devo dire che i padovani in queste settimane mi stanno molto sostenendo. Noi ieri camminando per strada non c'era persona che non mi fermava e mi diceva ha fatto bene, ha fatto bene, eravamo stanchi e avanti così.